Siamo tutti francamente molto felici del successo della squadra italiana di calcio degli Azzurri nella partita contro la Germania, dei grandi gol di Balotelli, però Balotelli quando è che è riuscito a fare i suoi grandi gol, quando ha funzionato veramente sino in fondo il gioco di squadra, quando l'Italia è riuscita a dimostrarsi in campo una squadra molto forte ma perché ha attuato davvero un gioco di squadra, è merito dell'allenatore di aver creato una squadra. Cogliamo una metafora da questo successo italiano ai mondiali e con la speranza che addirittura battano agli italiani anche la Spagna e si conquisti il campionato europeo. Cogliamo questa metafora, l'Italia vince quando riesce a fare davvero un gioco di squadra e questo mio pensierino è rivolto a PD, PDL, Udc e a tutti gli altri partiti. Vogliamo fare squadra per cercare di far vincere l'Italia nel mondo?